Buongiorno a tutti. Siamo ancora ad occuparci di quella lunga sezione del libro di Giobbe che va dal capitolo 4 sino al capitolo 27, il dialogo, se volete, il litigio tra Giobbe e i suoi tre amici. Abbiamo visto nei video precedenti in che modo Giobbe parla di Dio, in che modo Giobbe si rivolge a Dio. Avevamo anticipato che ci resta ancora qualcosa da guardare in questi capitoli. Ci resta da vedere qualche testo, tre testi in particolare, nei quali sembra che emerga una qualche speranza di Giobbe. E poi passeremo all'altra parte del libro a partire dal capitolo 28. È interessante notare, questo lo dico come premessa a quello che sto per dire, che la visione che Giobbe ha della vita umana è una visione limitata alla vita terrena. All'epoca in cui Giobbe è stato scritto non c'era alcuna prospettiva sull'aldilà e più volte nel libro di Giobbe, vi risparmio le citazioni dettagliate di tanti passi che si potrebbero citare, più volte Giobbe afferma, ma anche gli amici, se è per questo che dopo la morte non c'è altro che il mondo dei morti, quello che gli ebrei chiamavano lo Sheol, il mondo degli inferi, l'abbiamo già accennato in qualche altra occasione. Qual è il primo di questi testi in cui Giobbe sembra parlare o sembra in qualche modo esporre una certa speranza? Il primo di questi testi è all'interno del capitolo 14, è la terza risposta che Giobbe dà agli amici, una risposta molto lunga che comprende i capitoli 12, 13 e 14. Nella prima parte del capitolo 14 Giobbe ritorna sulla brevità della vita umana. Quasi ironizzando sui racconti patriarcali, vi ricordate Abramo, Isacco, Giacobbe, che secondo la Genesi muoiono vecchi e sazi di giorni, Giobbe dice che l'uomo muore breve di giorni e sazio di inquietudine, sazio di problemi, di malattie, di sofferenza. L'uomo è come una larva, una effimera, come un insetto che nasce e che muore, e anche inquieta, che si agita, che passa la vita tra la sofferenza. E dice Giobbe su quest'uomo, su quest'uomo, Dio starebbe, terrebbe gli occhi aperti, Dio diventa una sorta di terribile inquisitore che fa la guardia all'uomo per distruggerlo. Siamo di fronte dunque a un argomento che abbiamo già visto, Giobbe che chiama in causa la giustizia di Dio. Arriviamo così ai versetti che ci interessano. Versetto 13 del capitolo 14 Dice Giobbe Giobbe esprime un desiderio molto strano. La morte potrebbe essere la giusta soluzione per sfuggire a questo Dio, se Dio mi facesse morire, si calmasse, mi perdonasse e poi tornasse a ricordarsi di me, se una volta morto io potessi rivivere. La speranza di Giobbe qui è duplice, se il morto, se l'uomo morto potesse risorgere, ma soprattutto se Dio potesse ricordarsi di me. Allora Giobbe sarebbe capace di sopportare quella milizia, quella sorta di servizio militare, versetto 14, aspettando l'ora del cambio, come la sentinella durante la guerra. Allora nascerebbe un nuovo rapporto con Dio e Giobbe verrebbe perdonato, i suoi peccati verrebbero posti in un sacchetto chiuso. Questo è un testo interessante, si riferisce forse all'uso dei pastori del tempo che contavano le pecore delle gregge introducendo una pietruzza per ogni pecora in un sacchetto che veniva poi sigillato per evitare contestazioni future sul numero delle pecore. Così Dio archivierebbe il peccato di Giobbe. Ma il capitolo finisce male. I versetti finali dal 18 al 22 chiariscono che si tratta soltanto di un sogno. E invece come un monte che cade si spalda, E come una rupe si stacca dal suo posto E le acque consumano le pietre Le alluvioni portano via il terreno Così tu, tu Dio, annienti la speranza dell'uomo Con forza inaudita Giobbe afferma che Dio non consente all'uomo neppure di sperare. Quindi questo è un testo strano. Sembra che Giobbe esprima una speranza E poi questa speranza da Giobbe stesso viene negata. Un passo avanti Giobbe lo fa al capitolo 16 Un capitolo peraltro contenente immagini molto dure di Dio Che abbiamo già visto in un video precedente. Il contesto è quello della seconda risposta di Giobbe ad Eliphaz Che comprende anche il capitolo 17 Un capitolo nel quale Giobbe riflette, il capitolo 16 Sulla nullità delle argomentazioni degli amici Abbiamo già letto in un altro video questi passi Come ho detto sul fatto che Dio è un nemico dell'uomo E tutta un tratto ecco la speranza di Giobbe Al versetto 18 La leggo in un'altra traduzione un po' più personale Perché quella della Scei in questo caso lascia qualche perplessità E scrive, dice Giobbe, capitolo 16, versetto 18 O terra, non coprire il mio sangue Non lasciare che il mio grido non trovi spazio Ma ecco, ora, il mio testimone è nei cieli È là in alto chi può testimoniare il mio favore Sia lui il mio avvocato, il mio amico davanti a Dio Mentre davanti a lui lacrima il mio occhio Perché faccia d'arbitro tra Dio e un mortale Come fa un uomo con un altro uomo Perché passano i miei pochi anni Ed io me ne vado per una via senza ritorno Il testo si apre con una concezione biblica molto peculiare Di fronte a un atto di violenza Il sangue ingiustamente sparso dalla terra Grida verso Dio Vi ricorderete il sangue di Abele sparso da Caino in Genesi 4.10 L'innocente Giobbe continua a gridare da addio anche da morto Solo che in questo caso Giobbe immagina che il suo stesso sangue Gridi dalla terra verso quel Dio che lo ha versato Dio non è più il giudice al quale Giobbe fa appello Ma è la parte in causa È l'accusato Tutto a un tratto il versetto 19 introduce la misteriosa figura di un testimone Dice Giobbe Ho un testimone nei cieli Qualcuno che può testimoniare il mio favore Che può difendermi davanti a Dio come si fa con un amico E di chi sta parlando? Giobbe Giobbe prende spunto da una figura tipicamente israelita Quella del garante che in un processo interviene a favore dell'accusato E chi mai ci può essere nei cieli a difendere Giobbe davanti a Dio se non Dio stesso? Ecco una possibile spiegazione di questo testo Intrigante ma a mio parere vera Giobbe si appella a Dio contro Dio Giobbe afferma che Dio stesso dovrà farsi garante nel processo che Dio ha intentato contro Giobbe E che ora Giobbe intenta contro Dio In altre parole Giobbe coglie l'esistenza di una contraddizione Tra un Dio nemico e la possibile esistenza di un Dio amico Giobbe crede al volto amico di Dio Si appella a questa testimonianza A questo Dio in cui crede Che lo difenda contro il Dio nemico Che gli si è manifestato E dunque la posta in gioco è grave Quale dei due volti di Dio è quello vero? Giobbe spera che il Dio in cui crede Il Dio amico Lo liberi dal Dio nemico Che è in bocca ai suoi tre amici E che i suoi tre amici difendono È possibile tuttavia Anche un'interpretazione più profonda Anche se Dio appare un nemico dell'uomo Come tutto il capitolo 16 fino ad ora ci ha detto La fede di Giobbe va oltre questa immagine di Dio Giobbe è convinto che nei cieli, nel mondo di Dio Ci deve essere qualcuno che lo difende davanti a Dio E dice il versetto 21 Come fa un uomo con un altro uomo Nel Nuovo Testamento Gesù ci offrirà la rivelazione del Paraclito Di quello spirito difensore degli uomini Che difende l'uomo davanti a Dio Che testimonia a nostro favore Dio stesso diventerà questo mediatore Tra Dio e l'uomo che Giobbe attende Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti